Mandi e benvenuti a un vino in un minuto di storia di vino e di Friuli Venezia Giulia. Oltre dell'azienda Speconia, qui con vino è un panorama. È bello osservarlo e vedere mentre le uve di Re Fosco, Schiupettino e Pignolo fanno in modo di darsi una mano letteralmente a rialzarsi verso ogni sapore e ogni sensazione che riesce a farvi provare in bocca. È un vino totalizzante, capace con questi autoctoni friulani di insegnare uno sguardo ulteriore verso il sapore che si può avere e che ci si può aspettare. È un vino che, se fosse un libro, sarebbe Cuore di carne, il capolavoro di Mikhail Bulgakov. Se fosse una canzone sarebbe Amarsi un po', di Lucio Battisti. Mentre se fosse un film sarebbe Basta che funzioni, di Fudiali. La sua classificazione è 9.11. È un vino che ci insegna a guardare oltre a ogni nostro pregiudizio.